Nella sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte è visitabile fino al 26 giugno la rassegna I mille volti del Piemonte, crocevia tra storie e letteratura, curata dalla sezione Kral di arti visive della regione Piemonte. La mostra propone le opere pittoriche, prevalentemente oli su tela, acrilici e acquerelli, di 31 artisti iscritti alla Kral regionale. Il senso della mostra odierna è quello di fare conoscere, di portare ad una ribalta maggiore, più ampia, più vasta, degli artisti che operano a Torino, che operano nel Piemonte, che si cimentano con le loro tecniche. Ogni artista è rimasto fedele a quello che sono le sue tecniche e i suoi modi di intendere l'arte. Una uniformità o perlomeno una tendenza di omogeneità nella trattazione del tema, mentre le tecniche rimangono comunque a pannaggio esclusivo e contrassegno di ciascun artista.